Non cadrà più la neve e il nuovo, ispirato film della regista polacca Malgorzata Stzausecka, è un film potente, visivamente forte senza alcuna aggressività, di una vaghezza di toni così come di significati da risultare sfuggente e proprio per questo poetico. Non è un film perfetto, non presenta una univoca chiave di lettura per interpretarne la trama e neppure l'estetica, che è abbastanza fredda con i suoi colori monotoni che riallacciano i film al filone del cinema d'autore. Ma non cadrà più la neve a una delicatezza d'insieme e un candore disarmanti, proprio nella non interpretabilità della sua trama e nella figura calorosa del suo protagonista, interpretato da Ale Kugov. Il film è ambientato a Varsavia, il centro economico e forse culturale della Polonia, ma la regista sembra prendere la capitale polacca simbolo impersonale di una città europea senza calore. Il protagonista è approdato in città dopo il disastro di Cernobile si guadagna da vivere facendo il massaggiatore per molte persone che abitano in un anonimo quartiere borghese. Impersonali, tristi, depresse, esse trovano calore e umanità nella persona di questo massaggiatore. E tuttavia, non c'è alcuna indulgenza moralistica, nessun giudizio politico e neppure etico, e proprio qui sta il valore dell'opera. Il protagonista preserva il suo calore e la sua specificità non perché diverso in senso sociale, bensì perché ha in sé un qualcosa di magico, incantato e indefinibile, o di poetico. Infatti, egli diventa un oggetto di lusso, di desiderio, presso le varie persone alle quali presta i suoi servizi, lui che è capace di collegare il linguaggio del corpo con quello dello spirito e della mente, creatura affascinante perché anteriore, ma non sciocca e nemmeno idiota in senso dostoevskiano, ma proprio creatura unica poetica in senso etimologico, rispetto al cerebralismo di una società occidentale in cui lo spirito è cosa separata dal corpo. Seguici sui nostri social sul canale YouTube.